La Savelle di Atessa finisce al centro di un'interrogazione parlamentare del senatore PD Luciano D'Alfonso che rivolgendosi ai ministri dello sviluppo economico e delle parti sociali chiede quali siano le iniziative da assumere per scongiurare la delocalizzazione o il declassamento dello stabilimento della Val di Sangro, che è motore trainante del settore dell'automotive abruzzese. La crisi di approvvigionamento dei semiconduttori provenienti dall'Asia che ha portato alla riduzione dei turni lavorativi da 18 a 15 non è però l'unica fonte di preoccupazione. All'orizzonte si profila la possibile concorrenza dello stabilimento polacco di Glivica che nonostante le recenti rassicurazioni del ministro Giorgetti al tavolo romano del Mise con Stellantis tanto preoccupa lavoratori e sindacati. Questo sito produttivo che in Abruzzo rappresenta la più parte della produzione economica e della consistenza occupazionale. 6.500 dipendenti diretti, 3.500 indiretti, 700 con contratto di somministrazione. Per ragioni riguardanti l'approvvigionamento dei semiconduttori provenienti dalla Malesia si stanno conoscendo e patendo interruzioni di attività produttive perché noi non ci ritroviamo l'autosufficienza tecnologica l'autosufficienza è quella che si chiama la neutralità dell'approvvigionamento tecnologico funzionale alla produttività industriale. Io capisco e comprendo che questo si inserisce in una grande questione anche internazionale però nella mia regione questa è un'emergenza che va fronteggiata anche attraverso strumenti di programmazione economica concertata, per esempio un contratto istituzionale di sviluppo è stato istruito dagli enti locali con anche un accompagnamento da parte della regione del ministero della coesione per fare in modo che misure di facilitazione fiscale facilitazione di prestazione energetica, facilitazione di trasportistica e di logistica comunque motivino ulteriori investimenti in sito perché c'è il rischio che si comincia a guardare alla Polonia per quanto riguarda la ridelocalizzazione messa a riparo dal punto di vista della sfida internazionale. Tra gli impegni richiesti al gruppo Stellantis vi è quello a non delocalizzare la produzione dei modelli di veicoli oggetto di industrializzazione nell'ambito del piano. Così si legge nella risposta fornita dal ministero dello sviluppo economico all'interrogazione del senatore Luciano D'Alfonso impegni che restano in vigore anche a seguito della fusione tra FCA e il gruppo automobilistico francese Peugeot.